Covid, più di 4.200 contagi nelle marche, tasso di incidenza accumulativo oltre quota mille, vaccini entro gennaio arriva Novavax, già richieste di prime dosi dagli indecisi, affermo l'ospedale Murri in sofferenza. Super Green Pass negli hotel, obbligatorio dal 10 gennaio scorso, gli albergatori nuovi penalizzati, il grido d'allarme arriva da Pesaro con un decimo delle strutture aperte. Brucia la riserva naturale sentina e rogo dal primo pomeriggio di oggi in Fiammionettaro di Canneto, fermato il presunto piromane ascoltato in commissariato a San Benedetto. L'Ascoli in campo a Terni alle 20.30, prima gara del 2022, 11 assenti tra i bianconeri, ma sottil ordina, zero alibi. La Samb guarda a sinistra, gli under De Marco Odita per la fascia, telenovela, con son agli sgoccioli. Buonasera, ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione dedicata alle marche che restano in zona gialla almeno per altri 10 giorni, ma i nuovi contagi sono oltre 4.200, il tasso di incidenza cumulativo sfonda quota 1.000, mentre con gli ultimi 4 ricoveri l'area medica è satura al 26,8%, dunque sempre più vicina al 30% della zona arancione. Sentiamo. Gli effetti dell'equiparazione dei tamponi molecolari e rapidi iniziano a vedersi nell'ultimo bollettino della regione Marche, che tocca un nuovo record assoluto di test, 19.324 quelli totali, 15.260 nel percorso di agnosi. Record purtroppo anche di positivi giornalieri, ben 4.257 contagiati, circa 1.000 in più rispetto al precedente picco. Così, dopo la parziale illusione del giorno prima, il tasso di positività schizza al 27,9%, mentre l'incidenza cumulativa su 100.000 abitanti sfonda per la prima volta quota 1.000, per la precisione 1.027,76. Addirittura le province che superano i 1.000 nuovi positivi sono 3. Ancona con 1.142 nuovi casi, Macerata 1.153, Pesaro 1.042. Seguono poi Ascoli con 518 contagi e Fermo con 404, altri 98 arrivano da fuori regione. In una nota, l'Asur spiega che l'elevato numero di nuovi casi positivi è conseguenza della circolare regionale, nella quale si esplicita che il tampone antigenico rapido è sufficiente nella diagnostica di un caso positivo. Quindi nel conteggio confluiscono ora anche quelle effettuate nelle farmacie convenzionate, nei laboratori analisi e le strutture accreditate. L'Asur, inoltre, sta recuperando il tracciamento arretrato dei giorni precedenti che era andato in tilt anche per alcuni problemi di compatibilità tra diversi sistemi informatici. E seppure da lunedì si resterà in zona gialla, ci si avvicina sempre di più all'arancione perché lentamente continuano ad aumentare anche i ricoveri. Rispetto a ieri più 4, soprattutto c'è stato un aumento di 5 ricoveri in area medica, la cui occupazione di posti letto Covid sale al 26,8%. Manca dunque poco a quel 30% che di fatto obbligherebbe al cambio di colore, essendo gli altri parametri già superati. Scendono invece di un'unità i ricoveri in terapia intensiva, adesso sono 58, pari al 22,6%. Si conta un solo recesso nelle ultime 24 ore, un novantenne di Montegranaro morto in casa, con il totale delle vittime dall'inizio della pandemia che sale a 3.307. Ci sono attualmente 34 pazienti Covid ricoverati a fermo e altri 14 in attesa al pronto soccorso, un equilibrio sempre più precario al Murri, dove il direttore Grinta cerca di garantire però l'attività ordinaria del nosocomio. Ce ne parla Donatella Lappa. L'attività ospedaliera ordinaria deve continuare. In virtù di ciò il direttore dell'area Vasta 4, Roberto Grinta, e l'assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, difendono le scelte di non aprire altri reparti alla cura del Covid. L'emergenza sanitaria momentaneamente possiamo dire che è sotto controllo, cioè nel senso che abbiamo i sei pazienti in terapia intensiva e di questi noi non dobbiamo superarli e questo garantisce anche la possibilità di fare delle sedute operatorie. Ora abbiamo un mondo che vive fuori e quindi ci sono pazienti che necessitano sia di ricovero Covid, pazienti normali che necessitano di un ricovero normale, più dei pazienti che hanno delle fratture e necessità di intervento. Quindi dobbiamo garantire assistenza a tutti questi pazienti. Il tema non c'è un tema fermo, un tema urbino, macerata, civita nova e così via. Il tema è che in ogni area Vasta c'è un aumento di pazienti. Questo aumento di pazienti Covid in terapia intensiva confligge con le sedute programmate per gli oncologici, per le persone cardiopatiche, persone colpite da ictus. Quindi in questo momento rispetto all'anno scorso dobbiamo curare anche le altre patologie. Sarebbe stato molto semplice riaprire completamente reparti interi al Covid, non c'è nessun tipo di possibilità. La situazione però al Murri ed in particolare in pronto soccorso resta difficile ed è destinata a peggiorare, come ci aveva detto negli ultimi giorni dell'anno 2021, il primario Alessandro Valentino. I nostri già numeri molto molto ridotti, veramente all'osso, si impoveriranno ancora di più da febbraio perché noi tra 118 e pronto soccorso perdiamo altri tre medici, due per trasferimento verso altre, uno un'altra area vasta e una dottoressa invece si trasferirà in Veneto e una collega ha deciso di intraprendere la carriera di medico di medicina generale e quindi purtroppo i numeri ci assottigliano ancora di più. Noi rimarremo con 10 medici su 23 previsti al 118 e 3 su 22 previsti in pronto soccorso. I contagi purtroppo continuano a crescere e nonostante quanto dica il direttore di Area Vasta 4, Roberto Grinta, sarà difficile riuscire a trovare posto per tutti i pazienti. Ieri erano 10 quelli in attesa di ricovero in pronto soccorso, oggi sono addirittura 14 malati di Covid arrivati nel reparto del dottor Valentino che necessitano di un posto letto. Il pronto soccorso sta rispondendo bene, abbiamo circa dai 5-7 pazienti ogni giorno Covid che devono essere sistemati presso le malattie infettive e riusciamo a dimettere le malattie infettive e quindi posizionare questi 5-6 pazienti ogni giorno che ci chiedono assistenza di ricovero. Applauso del Presidente della Regione Acquaroli per la giornata record dei vaccini e dalla prossima settimana è atteso anche l'arrivo del nuovo Novavax rivolto a chi non ha ancora fatto la prima dose. Dalla Regione Marche sono partiti i primi 7.000 SMS a tutti coloro con Green Pass in scadenza che avevano una prenotazione assegnata per febbraio e marzo. A questi ritmi si cercherà di raggiungere entro gennaio tutti i 420.000 marchigiani che devono fare la dose booster. In questi giorni in tutti gli hub delle Marche c'è una vera e propria corsa alla terza dose, tanto che in un post su Facebook il Presidente della Regione Acquaroli ringrazia i medici vaccinatori e tutti i marchigiani che hanno contribuito a superare un altro record, quello delle 19.618 vaccinazioni raggiunte l'altro ieri 12 gennaio. Di queste, ben 3.200 nel Piceno, come conferma il Dottor Mazzoni, responsabile della farmacia ospedaliera dell'area Vasta 5. Dalla giornata record, con oltre 3.200 dosi somministrate, in larga parte comunque erano dosi booster, quindi terze dosi. Questo diciamo in maniera quasi analoga sia nel lab di Asculi che di San Benedetto. A contribuire a far alzare il numero, le dosi effettuate dai medici di base nelle farmacie picene, circa 450 al giorno, e gli open day nei comuni, come a Pignano che ha superato quota 300 in un giorno. L'altra soddisfazione è quella di aver eliminato le lunghe code dei giorni scorsi, almeno ad Ascoli, dove sono stati raddoppiati gli hub, il palazzetto di Monticelli per tutti gli over 18 e personale scolastico, mentre la casa della gioventù, da lunedì al giovedì pomeriggio, viene riservato alle vaccinazioni pediatriche. Fortunatamente non si registrano carenze di forniture, anzi è in arrivo anche il Novavax, che essendo privo di RNA messaggero, potrebbe convincere i più scettici. Abbiamo in larga parte forniture di vaccino Moderna e in misura ridotta Pfizer per adulti, mentre è largamente disponibile il Pfizer pediatrico. Siamo in attesa, questo dovrebbe arrivare alla prossima settimana, del Novavax Ovid, che è il nuovo vaccino dell'americana Novavax, del tutto differente da quelli che stiamo usando. Quindi prevedo che già entro questo mese di poter fornire gli hub del nuovo vaccino. E fioccano già le prime richieste. Ci sono diverse richieste, anche attraverso il nostro servizio URP, ci chiedono appunto quando uscirà questo vaccino. Questo vaccino è rivolto fondamentalmente alle stesse persone, a cui era rivolto il Johnson & Johnson, l'AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Quindi alle persone di età superiore ai 18 anni. La domanda se possono fare una richiesta, certo che è rivolto alle prime dosi fondamentalmente. Non può essere usato nella dose booster. Quindi magari uno che fino ad oggi ha aspettato questo vaccino, e perché no potrebbe sicuramente beneficiare del nuovo vaccino Novavax. Da lunedì scorso il Super Green Pass è stato esteso anche agli alberghi. Abbiamo analizzato questo obbligo per i clienti, le ricadute nel settore, con il titolare di sei hotel a Pesaro, parte dei quali sono aperti proprio anche in questo periodo invernale. Thomas Delbianco. Dal 10 gennaio obbligo del Super Green Pass anche per i clienti degli alberghi. In questo periodo sono aperte strutture invernali, strutture che tengono aperto tutto l'anno. A Pesaro il conte Alessandro Marcucci Pinoli è titolare di sei hotel. Il Super Green Pass obbligatorio ha comportato qualche penalizzazione? Sì, grosse penalizzazioni, però voglio premere che io non sono contro, perché la salute viene prima di tutti e di tutto, quindi per carità va fatto. Va bene il Green Pass, super, però dopo le conseguenze ci sono purtroppo. Le conseguenze negative per il turismo sono chiare, lampanti, le vedono tutti, soprattutto per gli alberghi annuali. Io l'altro ieri c'avevo l'albergo vuoto, mai successo in vita mia. L'Alexandre non aveva neanche un cliente. Qualche cliente c'era a Vittoria e qualcuno di più a Savoy, ma l'Alexandre è zero. Tutto è relativo poi, perché è ovvio che gli alberghi stagionari non risentono di questa pandemia invernale, di queste chiusure, di questo Green Pass obbligatorio. e loro sono chiusi, quindi se anche non vengono i clienti appesi non c'è un problema. Ma noi che siamo in tutto, poi 6 su 50 alberghi che sono aperti, adesso appesi da quello che mi ha detto sono 6 o 7. Senza lavoro, insomma, è una tragedia, mentre chi apre poi alla fine di giugno ancora c'ha davanti i mesi e non soffre di questo vuoto che noi ci abbiamo noi annuali. Poi dopo speriamo che per l'estate tutto riprenda e auguro sia per me che per tutti che ci sia il lavoro. Però adesso gli annuali sono veramente in crisi, perché è una tragedia. D'altronde io non ho mai licenziato nessuno, non vorrei licenziare nessuno e quindi cerco di tenere duro e spero che riprenda. Dopo il rinvio per Covid del processo per l'omicidio Cianfrone previsto ieri al Tribunale di Macerata è stata rinviata al prossimo 23 febbraio per impedimento del difensore dell'imputato. Anche l'udienza fissata oggi in Cassazione per l'omicidio di Pamela Mastropietro, delitto per il quale è stato condannato all'ergastolo innocent Osegale e accusato anche di aver violentato la ragazza 18enne romana per poi farne a pezzi il cadavere. Osegale ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Ancona. Il delitto avvenne il 30 gennaio del 2018 a Macerata. Ora ci spostiamo a San Benedetto Sentina in fiamme nel pomeriggio i vigili del fuoco hanno scongiurato il peggio mentre gli agenti del commissariato hanno bloccato il presunto piromane. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio. Mentre tutti erano assorti ad ammirare il fenicottero rosa che da giorni ha preso casa alla sentina, qualcuno ha appiccato le fiamme alla riserva naturale nella zona sud di San Benedetto. Tanto che la polizia ha fermato un sospetto interrogato e incommissariato in queste ore dopo le segnalazioni di alcuni testimoni. Tra questi anche Roberto Cameli dell'Associazione Questione Natura che ha ripreso in diretta le prime fasi del rogo chiamando i soccorsi. Guarda qua. Ma stavi accendendo adesso quello che mi sto io. Stavi accendendo quello che mi sto io. E' vietato stare in questi posti. Non so se lo sa che è vietato stare qui. Si allontani per favore perché questo è il motivo per cui il mondo va male. Dunque un incendio quasi certamente doloso divampato poco dopo le 13.30 e che ha bruciato circa un ettaro di canneto. Per i vigili del fuoco non è stato semplice raggiungere il luogo dell'innesco un punto impervio senza stradine non distante dalla spiaggia e dalla torre sul porto. Fortunatamente nel giro di un paio d'ore il peggio è stato scongiurato. I danni sono stati grazie al cielo limitati rispetto all'incendio che abbiamo avuto circa 6-7 anni fa che è stata una cosa veramente devastante che ha alterato l'ambiente che per fortuna ha recuperato. La natura sa provvedere anche in questi casi. Però questa volta è piuttosto limitato ma siamo preoccupati per questo ennesimo atto vandalico gratuito così la persona fa soddisfazione per il gusto di fare qualche danno e questa è l'ennesima prova. Il sindaco di San Benedetto del Tronto Antonio Spazzafumo che si è costantemente informato sull'evolversi dell'incendio ha voluto ringraziare da parte sua gli ambientalisti presenti nell'area protetta che hanno tempestivamente allertato i vigili del fuoco e hanno collaborato con la polizia per individuare il presunto piromane e assicura che qualora si dovesse instaurare un procedimento giudiziario il comune non esiterà a costituirsi parte civile nei confronti dei presunti responsabili. Si temeva infine che la vifauna della zona spaventata potesse allontanarsi viste le fiamme invece fortunatamente il fenicottero rosa è ancora lì tra i laghetti della riserva. Disposta per sabato l'autopsia sul corpo del 56 anni Luciano Berruto prima vittima sul lavoro del 2022 nelle Marche l'uomo era caduto da una scala a Porto Recanati Daniela Gurini è stato aperto un fascicolo dalla magistratura per fare luce sulle cause che hanno portato alla morte Luciano Berruto il 56enne titolare di una ditta di manutenzione caldaie e condizionatori la MRCI di Recanati città dove risiedeva con la famiglia deceduto mercoledì 13 gennaio mentre si trovava al lavoro a fare manutenzione sospeso su una scala al primo piano di un'abitazione in via Martin Luther King a Porto Recanati la famiglia si è affidata all'avvocato Vanni Vecchioli che ha fatto richiesta di ulteriori indagini per capire se la morte è stata accidentale o causata da un malore sulla salma a disposizione dell'autorità giudiziaria presso l'ospedale di Civita Nova Marche è stata predisposta l'autopsia richiesta dal sostituto procuratore di macerata Claudio Rastrelli che sarà effettuata sabato mattina alle 11 dal medico legale la dottoressa Ilaria De Vitis intanto si attende per il funerale previsto per lunedì anche il rientro in Italia di uno dei due figli residenti in Portogallo dove vive e lavora stando ai dati della CGL il 2021 aveva già riscontrato un aumento degli infortuni sul lavoro del 6% rispetto all'anno precedente di cui mortali 30 il 2022 nelle Marche purtroppo inizia la sua conta il 13 gennaio con il decesso del tecnico residente Recanati manifestazione di protesta nella tarda mattinata di oggi davanti all'ospedale Mazzoni promossa dal PD e dalle forze di minoranza di Ascoli che incalzano sia la regione che il sindaco Fioravanti sulla politica sanitaria nodo del contendere il nuovo ospedale di primo livello e la gestione dell'emergenza Covid ce ne parla Luigi Miozzi manifestazione di protesta davanti all'ospedale Mazzoni del PD e delle forze di minoranza che mettono nel mirino l'amministrazione regionale e il sindaco Fioravanti vogliono delle risposte sicure chiare sulla politica sanitaria ma è il segretario provinciale del PD Francesco Ameli a spiegare i motivi dell'iniziativa una manifestazione pacifica davanti al Mazzoni ma penso che nei prossimi giorni nelle prossime settimane una manifestazione che sarà replicata per denunciare la difficoltà in cui versano le strutture di Ascoli e di Sammetto a partire dagli operatori sanitari che ci lavorano che sono stati lasciati soli da un governo regionale che continua a creare solo disordini lo abbiamo visto sugli hub vaccinali lo stiamo vedendo su tutta la stradenzia dei vaccini e dei tamponi la decisione che noi chiediamo alla destra è questa se voi siete dell'opinione che dovrà essere realizzata una nuova struttura siamo d'accordo siamo viva a Dio siamo felici anche voi ritenete che debba esserci una struttura di primo livello diteci voi dove deve essere realizzata e con quali caratteristiche noi avevamo un'idea che poi insomma con le elezioni regionali è stata un po' rimessa in discussione però è un'idea di un ospedale baricentrico al di là della posizione con strutture a supporto dotate anche di pronto soccorso vogliamo sapere da chi governa la regione se il Piscena ha ancora diritto ad un ospedale di primo livello oppure no davanti all'ospedale Mazzoni c'era anche il segretario del PD di Ascoli Angelo Procaccini c'è il tema dell'ospedale noi avevamo un'idea chiara ora siccome abbiamo giustamente magari perso le regionali vogliamo sapere da chi ha vinto e da chi era qui a protestare contro la nostra proposta di sanità cosa pensa di fare in particolare al nostro sindaco di Ascoli chiediamo di parlare di dire qualcosa sul tema cosa pensa di fare per i cittadini di Ascoli che aspettavano da lui un potenziamento del Mazzoni e non uno stato di abbandono come abbiamo visto in questi ultimi mesi rafforzato dalla nomina da direttore generale di un san benedettese dopo il sit-in di ieri sulla statale 76 da parte degli operai della Caterpillar si apre uno spiraglio sulla crisi lo dice l'assessore al lavoro Aguzzi che non esclude contatti per una reindustrializzazione dell'area sentiamo Ciro Montanari si respira una calma apparente sulla vicenda dello stabilimento Iesino della Caterpillar la multinazionale statunitense di cui è stata annunciata la chiusura con perdita di 260 posti di lavoro l'assessore regionale al lavoro resta in attesa di una risposta dal Ministero dello Sviluppo Economico siamo in attesa di una risposta del Mise col quale sono costantemente in contatto per capire se il Mise intende continuare a seguire questa vicenda come ha fatto fino ad oggi insieme alla Regione Marche ma non avvocando a sé diciamo così la trattativa oppure come richiesto dalle parti sindacali con forza e anche dalle parti diciamo così regionali perché poi a me non dispiace se il Mise prende a sé questa trattativa avrebbe indubbiamente una forza ancora maggiore rispetto alla Regione stessa se appunto intende prendere questa vertenza diciamo a carico ad oggi questo non c'è stata ancora una risposta da parte del Mise l'assessore conferma l'impegno della Regione Marche per la vertenza io però sono perennemente in contatto con la dirigenza del Mise e comunque operiamo insieme intendiamo proseguire insieme in questo percorso perché la vertenza Caterpila merita l'attenzione anche dei livelli nazionali Aguzzi non esclude che ci sia qualche interesse per la reindustrializzazione dell'area cerchiamo di capire anche se ci fosse qualche contatto possibile con eventuali società che siano intenzionati diciamo a reindustrializzare quell'area perché ad oggi parrebbe che la proprietà sia di fatto irremovibile nella sua decisione comunque di non proseguire le proprie attività siamo allo sport serie B tra poco alle 20 e 30 prima partita dell'anno per Lascoli l'ultima del girone di andata sul campo della Ternana Bianconeri senza 11 pedine tra squalificati e contagiati finalmente si ritorna a giocare perché non ce la facevamo più insomma abbiamo bisogno di riprendere la linea della partita i giocatori che ho a disposizione sono tutti molto ben concentrati hanno lavorato con grande intensità oggi siamo in emergenza possiamo dire con tante squadre però questo non deve essere assolutamente un alibi da portarci a termine non deve essere assolutamente una scusa anzi zero scuse zero alibi perché la situazione è così e bisogna accettarla e sono sicuro che chi schiererò dall'inizio e chi verrà chiamato poi da subentrante saranno pronti saranno pronti a dare battaglia contro una squadra forte contro una squadra che è in salute ma anche noi in questo mese di allenamento stiamo bene i giocatori si sono ricaricati qualcuno ha bisogno di recuperare il saluto a livello mentale di energie nervose quindi abbiamo svolto secondo me un ottimo lavoro e siamo tutti 26 punti in classifica sono un buon bottino ma adesso abbiamo l'ultima partita per svoltare definitivamente il famoso giro di boa tra virgolette abbiamo l'obbligo di fare per tutta una grande prestazione quella che un po' ci è mancata tra Cittadella e Cremona e Cremonesi in casa ed ora la Serie D la Samb sempre alla ricerca di un terzino sinistro poi c'è la telenovela Conson ormai agli sgoccioli con il ritorno dell'ex capitano sempre più complicato ce ne parla Michele Natalini potrebbe slittare di un'altra settimana il campionato di Serie D l'ipotesi sul tavolo della Lega Nazionale dilettanti è di differire la ripresa dal 23 al 30 gennaio motivo naturalmente il Covid con casi di positività in quasi tutte le squadre la Lega poi nel conto sta mettendo pure l'opportunità di far concludere alle società la somministrazione delle terze dosi di vaccino ai calciatori presto se ne saprà di più intanto la Samba ne ha approfittato per recuperare qualche pedina tra contagi e infortuni gli allenamenti dunque ma anche il mercato priorità a un paio di under un terzo portiere dopo il ritorno di Francesco Bruno all'Udinese e soprattutto a un terzino sinistro la cuna da colmare già da un po' la Samba vorrebbe dotarsi di un 2003 il Lecce però ha chiuso le porte per Alessandro Scialanga mentre deve convincersi lui l'altro obiettivo Francesco De Marco di proprietà del Perugia ma in prestito alla Primavera del Napoli che vorrebbe aspettare una proposta dalla C un altro nome in ballo è quello dell'albanese Edward Dita 20 presenze in tutto nell'ultima stagione al Foligno e di proprietà della Ternana capitolo a parte Diego Conson la telenovela Conson la Samba dopo avere pareggiato l'ingaggio che l'ex capitano percepisce al Siena proponendogli un accordo anche per il prossimo campionato lo sta aspettando da 15 giorni Conson che non ha ancora dato una risposta ufficiale alla sua ex squadra potrebbe decidersi entro questa settimana ma il difensore avrebbe confessato a qualche tifoso rosso-blu che l'ipotesi di una terza avventura in riviera dove ha messo su famiglia sarebbe al momento impercorribile di sicuro si sarebbero fatti sotto altri due club di Lega Pro Viterbese inclusa e intanto si è proposto alla Sambi il trentenne centrocampista Davide Buono capitano del Monterosi giocatore di grande esperienza per la categoria che sta per lasciare il Lazio Buono piace e anche se Lulli e Angiulli non sono ancora riusciti a trovare continuità nel mercato di riparazioni i rosso-blu hanno già pescato l'overfrulla e l'undercasella insomma si vedrà ed è rimasto soltanto un giocatore della Samb positivo al Covid dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato due calciatori rosso-blu si sono infatti negativizzati invece il componente dello staff tecnico risultato positivo lo scorso 3 gennaio si sottoporrà domani al test questa era l'ultima notizia grazie per averci seguito dopo la pubblicità il TG Abruzzo